Allora, più volte rimandato, stamattina 13 ottobre mercoledì 2021, il Regina Margherita dà il benvenuto a Sua Eccellenza all'Arciviscovo Andrea Bellandi per condividere l'inizio dell'anno scolastico e per favorire una armonia, una speranza, una serenità e una tranquillità, nonché l'auspicio di buona salute per tutti i protagonisti del liceo Regina Margherita, dirigente, alunni, docenti, personale ATA, genitori che purtroppo per questioni di evitamento, di assembramento, ci sono solo pochi rappresentanti, non tutti.